silenzio quando uno ha mal di testa ha un solo desiderio che gli passi in un momento qualcuno ha un moment sì io contro mal di testa e nevragie moment agisce presto dai lavoratori farmaceutici angelini è una specialità medicinale da usare con stella e non somministrare ai bambini sotto i 12 anni